vai a fare il questionario si no beh ma piano è così facile lo facciamo calmo è un tiridante si taccò il punto è troppo complicato è un sacco di un tricato e quello è l'anostaglio è un sacco di un sacco di un sacco non è mai non è mai ci voglia mappos